La vicenda della garanzia da parte di Fidi Toscana per un finanziamento nei confronti dell'azienda Cil Post, appartenuta al padre di Matteo Renzi, ora fallita, è arrivata in consiglio regionale tramite un'interrogazione di Fratelli d'Italia. La risposta dell'assessore alle attività produttive Gianfranco Simoncini confermerebbe le irregolarità dell'azienda di famiglia del Premier. Innanzitutto, per non aver comunicato a Fidi Toscana l'accessione di Cil Post, ormai gravata da debiti per 2 milioni di euro, a Gianfranco Massone nell'ottobre del 2010. La famiglia Renzi, tramite Cil Post, non ha comunicato delle questioni determinanti per il finanziamento, quindi non solo i debiti della famiglia Renzi sono stati pagati alla fine dai cittadini e dal governo Renzi con i soldi pubblici, ma in più l'iter è stato irregolare. E sulla ulteriore domanda su cosa dovrebbe accadere in caso di iter non regolare, Simoncini risponde che l'impresa è tenuta a corrispondere a un importo pari a due volte l'agevolazione ricevuta. In poche parole, la famiglia Renzi non avrebbe visto un euro, quindi hanno omesso di comunicare dei dati l'azienda di famiglia Renzi e in seguito a questa omissione con soldi pubblici è stato ripianato un debito aziendale. E anche sull'agevolazione ricevuta c'è più di un dubbio sollevato da Fratelli d'Italia. Uno, questo finanziamento è stato concesso perché era un'impresa femminile all'80%, cioè era garantito all'80% perché l'impresa era fatta di donne, se no altrimenti potrebbe essere garantito per legge massima al 60%. E' stato chiesto come donne, il giorno, nel mese dopo, prima ancora che fosse erogato, è stata cambiata la società, è diventata solo di un uomo, Tiziano Renzi. In più, l'azienda ha ricevuto questa garanzia perché era Toscana, nel 2010 la è stata spostata in Liguria, quindi non avrebbe ricevuto nemmeno un euro perché la società è stata spostata in Liguria e Fidi Toscana non può fare garanzia per le aziende Liguri.